Salve a tutti voi, in questa puntata vedremo insieme Pensiamo alla salute con la geriatra Monica Bacci Le novità sulle pensioni con l'esperto pensionistico Alberto Scuderi Un gesuita scampia, il libro di padre Fabrizio Valletti L'ipertensione, il sovrappeso, la depressione non si curano soltanto con delle pillole O anche appunto il diabete, non si curano soltanto con delle pillole Ma si curano con un sano stile di vita Se siete depressi, muovetevi, fate ginnastica che fa produrre le endorfine Cercate di uscire, di stare in compagnia con persone con le quali relazionarvi Di fare cose che vi interessino Se avete la pressione alta, fate movimento Il movimento abbassa la pressione Il movimento non esagerato, non sollevamento pesi naturalmente Cercate di uscire, cercate di mangiare in maniera sana e cercate di rilassarvi Questo porterà ad un abbassamento dei valori pressori Se avete il diabete, camminate, in una camminata si bruciano un sacco di zuccheri E quindi la glicemia diminuirà In questi giorni si sta parlando Il nuovo governo vorrebbe affrontare la problematica della legge Fornero Io credo che sia una riflessione Che può portare anche i cittadini a una scelta della fuoriuscita del mondo del lavoro Certo, bisogna sempre fare i conti col bilancio dello Stato E quindi non si parla più di riforma Ma si parla di integrazione e modifica della legge Fornero Cioè più saggezza e più equilibrio Anche per quanto riguarda i conti dello Stato Le iniziative che si vuole portare a questo nuovo governo Potrebbero dare a molti la possibilità della fuoriuscita Così come la quota 90 Facciamo presente che queste sono già iniziative fatte da altri governi Quindi per questo si ritiene che sia la quota 90 che la quota 41 di anzianità Contributiva possa anche portare molti cittadini, molti lavoratori A un ripensamento per uscire fuori dal mondo del lavoro E' chiaro che sono proposte e bisogna verificare da domani Quali effettivamente sono reali, quali vengono mantenute E se effettivamente si ritorna indietro con le quote Padre Fabrizio Valletti opera da anni nella periferia più difficile di Napoli Ora ha raccontato la sua esperienza nel libro Un Gesuita a Scampia Edito da De Oniane Parlare di Scampia vuol dire anche liberarsi da una serie di pregiudizi Di immaginario a cui hanno contributo ultimamente le fiction televisive Quando è partita l'indagine di Saviano la correttezza del suo percorso è stata poi sciupata Però Scampia, prescindendo dai media, è una realtà che veramente interroga Soprattutto quello che può essere il progetto di come insediare famiglie che hanno disagio In un contesto urbano dove prevale la preoccupazione di un'edilizia intensiva Quello che manca a Scampia è l'anima delle persone Perché immigrate prima negli anni 70, poi con il terremoto degli anni 80 Non hanno potuto sviluppare delle relazioni serene, felici Anche perché a parte la scuola mancava e manca tuttora una capacità di aggregare Intorno a progetti culturali, a proposte di vita sociale Per i bambini l'unica soluzione è avere una grande struttura dell'Arcis Campia come calcio Perché i bambini inseguono la fama di Maradona Però a parte questo il quartiere vive un disagio, un abbandono Che poi è facile esca per la Camorra che sotterraneamente domina economicamente il quartiere Come ottiene consenso la Camorra? Il consenso della Camorra è legato al bisogno elementare delle famiglie che hanno bisogno di casa E allora la Camorra facilita l'occupazione abusiva di case, di appartamenti Facilita il prestito economico perché non essendoci accesso a crediti da parte delle persone Che non hanno reddito, non hanno lavoro, la Camorra è capace di aiutare la popolazione A mettere in piedi una piccola pizzeria, un piccolo negozio di alimentari E soprattutto poi attraverso il controllo della droga e del contrabbando di sigarette E quella che è un po' la fornitura dei negozi C'è tutta una rete di giovani che vengono in qualche modo impiegati dalla Camorra E quindi è l'unica opportunità economica e commerciale che il quartiere vive I problemi più gravi coinvolgono i giovani Il punto nodale che io ho constato anche frequentando le carceri di Napoli È la mancanza di cultura E molti giovani abbandonano la scuola fin dalla terza media Un 30% non arriva ad avere la licenza media Un 30% lascia il primo anno delle superiori E questa massa di giovani, pensare che ci sono 5 istituti comprensivi 5 istituti superiori, una massa giovanile enorme Non hanno prospettiva E la mancanza di cultura da parte dei genitori Molti genitori sono analfabeti Non sentono l'impegno di far studiare i propri figlioli Tutto questo crea una grande possibilità per la Camorra Di impegnare i ragazzi e invitarli a facili guadagni E quindi la trasformazione è possibile partendo dalla scuola Partendo dalla cultura e soprattutto dalla formazione professionale Anche se purtroppo poi la mancanza di lavoro Crea anche la delusione per molti che hanno raggiunto una preparazione E devono emigrare Voi gestite il centro Urtado, di che cosa si tratta? I gesuiti hanno dal 2001 una missione del quartiere Di unire quella che può essere la missione apostolica di pastorale Con una ricerca di promozione culturale e di sviluppo sociale Per cui uniamo quello che padre Arrupe chiamava la terna di fede, cultura e giustizia E nel 2005 abbiamo avuto dal comune una struttura Che oggi rappresenta un piccolo centro di formazione Per la cultura dei bambini, la musica, l'informatica, il cinema E la formazione professionale Da cui poi è nata l'esigenza di sperimentare attività lavorative Un'attività lavorativa riconosciuta Con contratto, con i contributi, con la regolarità Ecco questa è una scommessa Che in un quartiere come Scampia si può E il tentativo che noi stiamo vivendo È quello di fare ponte con la Napoli ricca Con la Napoli bene E in parte stiamo avvicinando molte persone Che non conoscevano e che non si azzardavano di venire a Scampia Per cui abbiamo una rete sia fuori Napoli di Roma, Bologna e Milano Che in qualche modo sono sensibili a questo sviluppo culturale e sociale del quartiere E questo ponte sta realizzando dei risultati Perché vengono molti giovani durante l'estate soprattutto a Scampia A fare servizio Abbiamo una media di 200 giovani che da tutta l'Italia Vengono per fare una settimana con i ragazzi del quartiere E il ritorno è importante perché tutti questi giovani Poi quando tornano nel loro paese, nella loro città Hanno l'immagine di una periferia diversa Una periferia che non è solo degrado e abbandono Ma che è ricca di umanità Ricca di relazioni anche possibili e felici Grazie a tutti Grazie a tutti